E' stato pubblicato il bando di partecipazione alla selezione di 25 volontari da impiegare in un nuovo progetto di servizio civile. Il progetto presentato dal Comune di Agropoli, ritenuto idoneo e finanziato da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è denominato Agropoli Destinazione Sostenibile, incentrato in ambito turistico. I giovani interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione su www.serviziocivile.gov.it, www.amesci.org, www.comune.agropoli.sa.it. La data di scadenza per presentare le adesioni è fissata al prossimo 8 febbraio 2021 alle ore 14. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Quest'anno la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma domanda online DOL, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Sul sito dell'Agid, Agenzia per l'Italia Digitale, sono disponibili tutte le informazioni necessarie per richiedere lo SPID. L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti in orario di apertura al pubblico. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, è possibile in alternativa contattare i numeri 0974 82 74 27 82 74 67 oppure inviare una mail a servizio civile chiocciolacomune.agropoli.sa.it. Al via le domande di adesioni al nuovo progetto di servizio civile preparato dal Comune di Agropoli, afferma il sindaco Adamo Coppola e l'assessore Vanna D'Arienzo. Vedrà impegnati 25 ragazzi e ragazze in una esperienza formativa e di vita molto importante e significativa. Da tempo ormai il nostro Comune porta avanti i progetti, in tal senso con ottimi risultati.